Vi offro uno sguardo su una creatura leggendaria persa nel tempo. Ne scimmia, ne uomo, ma è un gigante. Ha avuto molti nomi. Susan, sarà quello il mio nome? Questo è un nome da ragazza. Sì, è corretto. Ti si addice. Vi presento Mr. Link, una creatura di enormi proporzioni. Alta più di due metri. Per 300 chili di peso. Sono i peli che mi fanno sembrare più grosso, credo. Può ingannare, può essere frustrante. Dall'altra parte del mondo c'è chi parla di una creatura. Lo Ieti. Sono miei cugini, potete portarli lì. Gamu, conosci le rotte segrete delle montagne. Ma fa caldo qui. Perché non provi ad aprire il finale? Strino. Oh, così va meglio. Cercate Gamu, non menzionate il pollo. Nessun pollo zitti. È un vero onore. Perché ha un pollo in testa? Quest'anno faremo molta strada, ma ti assicuro che... Troveremo il tuo posto. Vivi l'avventura. Vira il salvagente! Eccomi! Shangri-La? Noi la chiamiamo... Cosa significa? Alla larga, vi odiamo. Mister Link! Presto fatele la respirazione bocca a bocca! Sei tu il più adatto. Com'è il mio alito? Al cinema!